carissimi amici bentornati nuova puntata di del ciclo di catechesi del libro di tenere amata questa è la numero 24 ho ricontrollato prima dell'inizio perché quando le puntate cominciano a diventare tante c'è il pericolo di fare un po di confusione bene ci siamo lasciati la volta scorsa con credo tante cose davvero belle che abbiamo scoperto della vita eterna del paradiso che ci attende della gloria occidentale tra cui una delle cose più particolari forse più interessanti e più suggestive anche più sorprendenti dentro certi limiti solo quando non si conosce bene la divina volontà che dio gioca con i beati gioca anche lui si diverte anche lui e abbiamo visto che c'è uno spettacolo più bello dei film più belli che possiamo immaginare tutto quanto registrato non come i nostri nastri di registrazione ma tutto quanto perfettissimo meglio dei dei migliori delle migliori realizzazioni che adesso mi sembra che siano state un pochino abbandonate dei blu ray 3d adesso pare che fanno tutto in 4k ma questo è niente in confronto a quello che che si vedrà dall'altra parte peraltro molti dei film saranno in realtà quanto pare dei docu film quindi nel senso la possibilità di andare a ripercorrere e a vedere qualunque evento storico che possa in qualche modo tirare la nostra attenzione al nostro interesse la nostra in quella sede certamente legittima e assecondabile curiosità la curiosità qui sul pianeta terra è un po' pericolosetta ma in paradiso tra le tante cose che cambiano è che dio i desideri evidentemente buoni legittimi dei beati come abbiamo già credo mai compreso e li soddisfa tutti e quindi non non li lascia incompiuti allora fatta questa breve premessa di ricollocarci e di sintonizzarci direi di andare di procedere subito con una certa premura alla prosecuzione della lettura perché ci attendono altre sorprese questa sera non indifferenti quindi riprendono da dove ci siamo lasciati con riccardo che fa questa esclamazione di ammirazione quante meraviglie nel paradiso dice a tenera amata con una tristezza prossima all'invidia lei risponde è chiaro che la nostra gioia immensa assistendo a questi spettacoli viventi non ci permette di essere sadici né masochisti godere vedendo una carnevicina per esempio o chiedere la morte perché non è simpatico noi siamo sempre gioiosi e felici si immagino che non vi potete abbattere anche se contemplate un tristissimo spettacolo da far piangere alla stessa stato di nerone ma comunque nel cielo adesso fa un'altra obiezione di di qualcuna delle cose belle che ci abbiamo sulla terra no comunque nel cielo non ci sono dei bar come qui ama anche il bar e quindi se manca il bar ma con un sacco di cose buone secondo riccardo risposta in verità non ci occorrono cambiare l'acqua in squisito vino è la cosa più facile nel cielo e lo beviamo con piacere ma non per creare un ambiente cordiale perché già lo abbiamo né per averne la brevissima euforia già che la nostra allegria è sempre immensa lo beviamo per il sapore squisito e il grandioso simbolismo mi riferisco naturalmente ai vini e li cuori celesti o mi fermo un attimo audite audite in paradiso specialmente per chi è amante del vino dei buoni di cuori ci sono i vini e li cuori celesti che non si bevono per creare euforia sapete che l'alcol generalmente serve a creare quel clima un po non serve e nemmeno per creare quell'ambiente cordiale no il brindisi non serve non serve niente di tutto questo ma quello che è che è che è una cosa buona e questa nell'ambito rimanendo nell'ecito ovviamente è perché qui 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 le bevande alcoliche sono pericolosissime perché bisogna che uno conosca bene le proprie misure per non eccedere ma ci sono dei vini buonissimi ci sono dei liquori buonissimi certo qui sulla terra a seconda ripeto delle capacità di tenuta però occorre contenersi sotto tantissime per tantissime motivazioni e per tanti per ovvie ragioni no primo perché non si può diventare nei brilli né ubriachi secondo perché c'è la possibilità che si crei assuefazione no quindi poi tendenze ad aumentare no un po anche per lo spirito di di mortificazione di penitenza che caratterizza la nostra vita no però dopo queste cose non ci stanno tutto questo dopo non c'è allora attenzione un'altra obiezione di ricardo con un'altra cosa bella di questo mondo che è bella anche se io non sono mai stato molto molto bravo in questa cosa qui però è sicuramente una cosa bella la mia vita trova un'altra obiezione a nell'aldilà non si balla come nei saloni di qua e adesso scopriamo un'altra cosa ma sì che si balla ma molto meglio prima di andare avanti io vorrei che chi ascolta queste cose capisse qualcosa di molto importante e di molto profondo vedete cioè qui si tratta nella gloria accidentale alcune cose belle che in questa vita però si vivono in maniera o limitata perché non si può più di tanto o imperfetta in cielo ci stanno in maniera perfetta e senza nessun tipo di limite qualcuno potrebbe storcere la bocca pensando che questa sia una sorta di proiezione nell'aldilà di cose che abbiamo nell'aldiqua io dico che chi pensa questo non si è studiato bene San Tommaso d'Aquino perché San Tommaso d'Aquino che era veramente un genio persona intelligentissima formula questi due principi attenzione la grazia che è quella che vediamo qui presuppone la natura e la porta perfezione la gloria presuppone la grazia e la natura e le porta a perfezione assoluta capite che significa come la grazia di Dio non è che se io sto in grazia cioè un santo non è che se un santo è un santo dice ma il santo diventa un'altra persona si usa si usa un'altra persona sotto certi punti di vista d'accordo nel senso che i difetti che aveva si diminuiscono scompaiono per lasciare il posto alle virtù ma io non posso diventare un'altra persona la mia voce è questa la mia anima è quella che ho i miei tratti somatici almeno in questo mondo sono questi e questo non deve non deve lasciarci stupito perché la creazione anche se noi stiamo catechesi dell'anno scorso in uno stato di natura decaduta ma siamo sempre creature di Dio Dio non è che si è sbagliato a creare gli esseri umani quindi non è come dire anche se la dimensione del cielo è una dimensione trascendente quindi che c'è uno scarto che c'è un surplus che tra l'altro perlomeno possiamo immaginare perfettamente ma noi non possiamo però pensare che quello che c'è stato qui svanisca nel nulla adesso a prescindere dalle considerazioni sulla sull'eternità creata che tante volte sono già state fatte e saranno fatte ulteriormente non è pensabile questa cosa qui capite perché la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione e la gloria porta a perfezione e tutto il resto quindi cosa c'è da stupirsi se da un bacio normale poi ci torneremo su questo perché poi glielo spiega che cos'è si passa al bacio compenetrativo cosa c'è di tanto strano se tutta quanto una serie di amori che non si possono vivere su questa terra ma perché c'è il peccato originale che ci mette in stato l'interdizione poi si possano vivere in cielo l'amore non può essere una cosa non bella o non da vivere a meno che non ti trovi nelle situazioni contingenti in cui stiamo adesso che tantissime cose qui si possono fare non posso io gustarmi in una stessa giornata dieci qualità di liquori diversi e dieci tipi di vino diverso perché al terzo sto già fuori di testa non lo posso fare ma nell'altro mondo lo posso fare come? qui posso fare posso anticipare un tantinello proprio molto molto lontanamente si badi a questa considerazione perché noi non dobbiamo farci anche delle idee bislacche completamente sgangherate certo non possiamo immaginare perfettamente come il paradiso ma il motivo per cui Dio ha permesso questa cosa è stata riferita evidentemente a quest'anima ma poi attraverso quest'anima aggiunge anche a tutti noi no? è anche che noi ci facciamo un'idea verosimile corretta fermo restando che alcune cose rimangono per esempio della gloria essenziale non gliene parla mi ricordo che qualche giorno fa ho detto non so se una melo un commento di youtube dice ah bene bene la gloria occidentale ma qua quando è che si parla della gloria essenziale ma non si può parlare della gloria essenziale almeno non perfettamente perché l'essenza divina e che cosa significa contemplare a faccia a faccia la santissima trinità è cosa che non è per questa terra non è proprio quindi qui qui certamente i mistici dicono che se uno va molto avanti arriva agli ultimi stati della santità e di unione mistica con Dio compreso il matrimonio mistico può arrivare ad avere questo lo dice credo Santa Teresa sì Santa Teresa non San Giovanni delle cose la forma più alta scusate di esperienza mistica che è la contemplazione la visione intellettuale della santissima trinità io racconto che cos'è mi ricordo di averla letta certo Santa Teresa descrive balbetta qualcosa ma evidentemente come come sempre dice e specifica quando parla delle esperienze mistiche mi può capire perfettamente solo chi questa cosa ha vissuta chiaro no? quindi ballare è una cosa bella non è una cosa brutta anche se uno ha imbranato che non ha imparato a ballare bene attenzione non i ballacci che fanno adesso i balli satanici cioè i balli che si fanno in discoteca perdonatemi non è che sono balli quelli lì sono movimenti scomposti orridi d'accordo il ballo bello d'accordo il ballo il ballo classico ecco quello bello no? che ne so quando eravamo giovani che ci stavano le feste a 13-14 anni che ballavamo i lenti con le prime morose posso dirle queste cose qui speriamo non scandalizza nessuno insomma oppure un bel balzer adesso non lo so che cosa ballano in cielo insomma adesso lo vediamo insieme ma questi balli sono sono belli sono e certo anche qua uno deve stare un pochino attento perché non è che può ballare con chiunque ecco io adesso che sono prete non ballo con nessuno che non sarebbe opportuno capito? ecco chi è sposato è bene che balli con la moglie o col marito perché il ballo capite è anche una un'attività che può evidentemente per il contatto specialmente quando si balla in due attivare una serie di cose che come ben sappiamo in questa vita sono interdette quindi non bisogna farle attivare a meno che uno non ci abbia il marito o la moglie ecco lì si possono attivare altrove no e ritorno allo stato di interdizione ma in paradiso questo non c'è quindi a voglia fate balli con chi ti pare con chi ti pare con chi la divina provvidenza ti ha messo in sintonia allora sì che si balla riprendo ma molto meglio i ritmi dei motivi ballabili di questo mondo attenzione qui parla anche del tempo devono per forza essere adeguati alla cadenza degli spazi tempi normali della terra segnati dall'orologio devono effettuarsi sul pavimento se balla sul pavimento no? non credo che se balla sul mare dovuto alla forza di gravità e dispongono qui di assai poche cadenze dice Teneramata per esempio il volo armonioso di uno stormo di uccelli ti sta a segnalare nuove possibilità del ballo celeste in cielo non c'è la forza di gravità quando noi staremo in cielo quando noi staremo fuori della quarta dimensione non siamo più soggetti alla forza di gravità pur avendo il corpo per quanto riguarda ovviamente l'eternità creata non per quanto riguarda il poscadare spero che ormai ci siamo familiarizzati con questo vocabolario no? nella patria la danza si fa dovunque non solo che ballano ma ballano dovunque non occorre un pavimento pulito incerato non corre la pista da ballo per il dominio assoluto che abbiamo sulle forze gravitazionali dominio assoluto sulle forze gravitazionali non sono loro a dominare me ma sono io a dominare loro ci abbiamo pensato per esempio che anche il nostro essere soggetti alla forza di gravità è un problema perché? punto primo perché ti sta sempre per terra punto secondo perché se ti sporgi dal settimo piano di un palazzo e caschi di sotto che fai? ti sfracelli non è che puoi dire alt mo faccio superman e volo no non voli superman vola soltanto nei fumetti oppure nei film della marvel non vola se no non esiste superman ok? ecco se non come creazione di fantasia allora per il domino assoluto che abbiamo sulle forze gravitazionali possiamo ballare sulle cime delle cordigliere senza paura senza pericolo di sporgersi e di cascarsene di sotto e spaccarsi la testa ovviamente no? o sulla superficie o nelle profondità dei mari farsi un bel ballo sulla superficie del mare o addirittura nelle profondità dei mari ma come lì sotto non c'è l'ossigeno ma sa che gliene importa la persona che sta in quella dimensione che non c'è l'ossigeno come negli spazi siderali sentite che dice adesso è molto divertente ballare all'interno dei vulcani immaginate no? fa un po' calduccio dentro un vulcano no? ma non mi riferisco a quelli della terra poco attivi ma a quelli delle stelle capito? cioè i beati che fanno? dice andiamo a fare non solo un balzer qui è offensivo perché dice che ci sono balli con cadenze molto più variegate rispetto ai nostri ci andiamo a fare un balletto dentro il vulcano della stella della stella X e attenzione quelli della terra si piacciono poco perché sono poco attivi quindi uno può sorridere quanto vuole ripeto dinanzi a queste cose può tranquillamente chiudere il libro e dire queste sono tutte quante cretinate io non ci credo per carità padronissimo di farlo questi non sono dogmi di fede questi sono come dire luci che illuminano una verità di fede che comunque rimane cioè in paradiso che ci sia una gloria accidentale questo lo insegna la chiesa come tutte quante le liberazioni private che cosa sta facendo dice guarda che la gloria accidentale che io ti trasmetto e che ti dico che c'è è questa nel dettaglio parte di quello che c'è è questo può pure non crederci tanto che ci sia la gloria accidentale invece che ci sia la gloria accidentale ci devi credere per forza se puoi essere cattolico poi che non credi a queste cose chiudi il libro non è assolutamente obbligatorio sentire Don Leonardo che parla di queste cose se posso fare tante altre cose nella vita e pace insomma evidentemente se io leggo questo testo e lo commento è perché è chiaro che lo ritengo più che verosimile e personalmente ci credo a queste cose qui più avanti potrà intuire l'ineffabile abbraccio delle coppie allora non ne replica un'altra allora prima cominciare a dire però non c'avete il bar ah no c'abbiamo gli uguori celesti ah però non c'avete il ballo non c'abbiamo i balli c'abbiamo i balli spaziali dei trivulcani delle stelle adesso però non avete gli stabilimenti balneari replicai trionfante dico ma lo devo trovare una cosa che non ce l'hanno risposta non come questi di qua rispose affabilmente superficiali sentite con decorazioni artificiali oppure profondi e pericolosi gli stabilimenti termali del cielo attenzione altra informazione hanno l'incanto della natura pura audite audite gli appassionati di mare ci sono gli stabilimenti termali del cielo hai sentito parlarne? dice ovviamente non ci occorre fare il bagno attenzione non ci occorre cioè non abbiamo bisogno le nostre anime glorificate eliminano la polvere e il sudore dei corpi capito abbiamo i cittadini del cielo non se lavano sta dicendo parole molto prosaiche no un po' meno prosaiche di quello che sto dicendo io perché perché le operazioni di pulizia le fa l'anima glorificata che elimina polvere e sudore dei corpi quindi tutti i cattivi odori quindi dice che ci andremo a fare dunque a farci il bagno no quindi facciamo il bagno perché ne abbiamo bisogno ma anche qui facciamo il bagno per diletto il cielo non si mangia perché si ha fame ma si mangia per diletto non si beve perché si ha sete ma si beve per diletto non si fa il bagno perché siamo altrimenti uno deve fare pace col sapone che se no puzza scusatemi fino a quando rimaniamo in questo mondo ma si fa il bagno per diletto tuttavia nel moto godiamo lo sfiorare dei fluidi dell'universo acqua come questa di qua ma anche altri liquidi e gas stupendi che non conosci ci sono altri liquidi oltre all'acqua per qualcuno che ogni tanto mi fa le domande dice ma esisteranno altre forme di vita in tutto l'universo io ti rispondo con padre Pio padre Pio padre Pio quando mi faceva questa domanda risponde e che te pensi che tutto quello che ha fatto nostro signore che c'è soltanto tutto l'universo dobbiamo capire che a parte il sistema solare all'interno già della stessa via latte immaginiamo il pianeta terra nei confronti di tutto quanto l'universo ma non lo so è meno di una punta di spillo nei confronti di tutta la materia che c'è sul pianeta terra cioè voi immaginate un pianeta una punta di spillo in relazione a tutto quello che c'è sul pianeta terra ecco meno è il pianeta terra nei confronti di tutto l'universo e quindi è possibile io se posso azzardare o queste proprie idee mie personalissime farneticazioni sapete che penso ogni tanto io non solo penso che ci sia anche qualcun altro ma penso che gli esseri umani sono la vergogna dell'universo io mi immagino altre forme di vita possibili che però non hanno fatti quello che abbiamo fatto noi non hanno fatto il peccato originale tutto quanto il disastro non hanno come dire non certamente costretto ma spinto per amore il figlio di Dio a doversi fare uomo a dover morire e soffrire credo che questa brutta figura dal momento che l'unione ipostatica è irreversibile quindi credo che questa brutta figura che bel palmaresse che ci abbiamo sicuramente l'abbiamo fatta soltanto noi poi se mi sbaglio non ci sta nessun altro queste sono cose proprio del tutto veramente del tutto accidentali e accessori tanto avremmo modo di constatarlo quando andremo dall'altra parte queste sono cose che con certezza evidentemente non si possono sapere a quanto pare nonostante per il progresso a cui siamo arrivati oggi insomma che è abbastanza notevole abbiamo i telescopi spaziali insomma vanno abbastanza lontano tutti quanti i missili le astronavi però contatti sembra che che non si possano prendere evidentemente non voglio parlare di queste cose io quando sento parlare così a pelle di UFO o cose di questo genere mi fanno sempre un po' come dire mi sembrano un po' cose strane pur non escludendo affatto che ci siano delle forme di vita possibili però forse nostro signore ha fatto in modo che non entriamo in contatto fino a quando rimaniamo in questa dimensione ma queste sono tutte chiacchiere comunque andiamo avanti sentite tenere la mata che è meglio acqua come questa di qua altri liquidi e gas stupendi che non conosci e perfino lava vulcanica il bagno dentro la lava e uno subito pensa ma lì ti scotti non ti scotti non succede niente non ti preoccupare ci dilettiamo con le carezze del moto ondoso sentite causato non già dalla marea ma dalla naturale emozione del liquido nel percepire a modo suo la nostra vicinanza e nel presentire il gaudio che è d'accordo con la sua natura gli procurerà il nostro contatto o qui comincia ad affrontare un argomento bellissimo che sono i contatti tra le varie creature cioè quello che sta dicendo è che se il mio corpo quando arriva nella quinta dimensione entra in contatto con uno di questi liquidi io ne godo ma ne godo pure il liquido la naturale emozione del liquido nel percepire a modo suo chiaro non come persona intelligente la nostra vicinanza e nel presentire il gaudio che d'accordo con la sua natura gli procurerà il nostro contatto in questo modo funziona nel cielo la conoscenza e questo si chiama l'amore universale tutti noi essere ci troviamo relazionati tra di noi e ci conosciamo ci amiamo e ci possediamo ineffabilmente nel cielo l'amore universale l'amore universale vedrai che significa essere un piccolo dio per partecipazione del creatore qualcosa come un onnipotente in miniatura è la nostra sorte ma e attenzione a questo ma ma che potenza malgrado la piccolezza quale grandezza dentro la sostanziale nullità noi quanto immenso è l'amore con cui ci ama il nostro dio allora amici riflettele su queste cose capite che questa tante volte ho avuto modo di far notare e di evidenziare che il libro di Tenera Amata che è stato tradotto da Don Pablo Martín è in stretta correlazione con le rivelazioni fatte a Luisa Piccarreta sulla divina volontà ma quante volte negli scritti cioè i meditazioni condivise ne abbiamo fatte tantissime stiamo quasi alla fine del 31esimo volume quindi abbiamo quasi finito ma quante volte lì si parla che la divina volontà ti rende felice anche in questa vita il Signore c'è in serbo cose bellissime meravigliose anche in questo mondo quindi cioè che c'è una presa di coscienza quindi una focalizzazione della vera e unica corretta idea di Dio che ci si può fare che è il contrario perché è stata ammessa oggi oggi c'è il racconto del peccato originale quello che il diavolo ha fatto bere ad Eva durante il peccato originale come ho accennato nella breve media che tra l'altro ancora non ho mandato online mi sto ricordando adesso di oggi è questo cioè voi potete fare tutto tranne tranne una cosa e Dio ti ha privato di fare della cosa più bella che tu potessi fare bella roba tu dici che ti vuole tanto bene questi ci hanno creduto è questo un delitto proprio imperdonato come fai tu a credere che Dio che ti vuole tanto bene ti proibisce una cosa perché sarebbe la più bella di tutti questo è un delitto imperdonabile perché vuol dire che tu c'hai un'idea completamente sballata di quello che Dio è come se Dio si divertisse a precluderti la felicità e non è e non al contrario ma scusate ma perché ci ha creato Dio ho parlato in questi giorni forse in qualche incontro con i giovani online Dio ha creato un universo semplicemente per amore perché qualcuno fuori di Lui potesse partecipare della pienezza di gioia di vita e di felicità che Lui è e questo è il motivo per cui siamo stati creati e tu quindi mi vai raccontare che uno che mi ha creato per questo motivo poi mi impedisce mi preclude un qualche cosa perché questa sarebbe la cosa più bella che esiste e quando l'anno scorso abbiamo fatto sto ciclo di catechesi che pare che il peccato originale sia stata l'apertura della della come dire della vita sessuale all'interno del genere umano ma quanta gente anche adesso pensa che la cosa più bella che esiste il piacere più bello irrinunciabile è il sesso la sta grande maggioranza degli esseri umani pensa questo e quindi secondo questa secondo questa vulgata ah vero vero il Signore ti ha precluso la cosa più bella che esiste non è vero manco manco per niente abbiamo già visto che questa cosa questa presunta cosa più bella che esiste in paradiso non c'è non c'è quindi chi è troppo attaccato a questa cosa sappia che paradiso non c'è non c'è neanche all'inferno dove vanno quelli che commettono i peccati impuri per la verità quindi sta sta roba finirà con la fine della vita terrena perché paradiso non c'è più e all'inferno nemmeno perché all'inferno non ci sono godimenti neanche quelli bassi di questa vita quelli bassi e peccaminosi non ci stanno ora il lieve tocco di tenera amata mi visicava e la sua celeste tenerezza mi faceva stare di eccellente umore se questi magnifici piaceri pensavo corrispondono appena alla gloria accidentale che è la gloria di minore che saranno gli indicibili caudi della gloria essenziale bravo ricatto bravo questo è accidentale quindi vuol dire che questo è un accessorio questo è un contorno e l'essenza che sarà se questo è il contorno comprendo che tu senti la nostalgia della beatitudine disse è la tristezza nobile e solenne dell'esure che sospira la patria ma procura che sia un dispiacere costruttivo cioè sentire queste cose deve provare non vedo l'ora di andare in paradiso sì desiderio legittimo ma vedete mettere in condizione ad andarci in paradiso se non ci vai in paradiso quindi che sia un dispiacere costruttivo che ti muova a porre i mezzi per raggiungere un fine così elevato ti rifarai poi nella gloria futura delle fatiche che hai sofferto per ottenerla ora qui è chiaro che nella vita terrena non c'è il paese dei baocchi quindi anche se il nostro Signore ci felicita ci riempie di bene e di grazie anche qui qui c'è anche l'impegno di servirlo c'è il travaglio c'è l'impegno nelle buone opere ci sono le fatiche le tibolazioni tutte le nostre offerte fatte al Signore ma queste vanno a costituire le medaglie future le gemme della corona che avremo come beati e anche il tasso di gloria che avremo in cielo che ha proporzionato non dimentichiamolo mai i meriti tenera amata già detto più di qualche volta che lei è una piccola beata e pur non potendo i beati provare come dire la sofferenza però un pochino se ne rammarica e infatti tutti quanti i santi hanno insegnato che quando muore un santo non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello la voglia di tornare sul pianeta terra a cui noi siamo tanto attaccati se non se non dice dicono i santi tornerebbe sul pianeta terra per fare qualche opera buona in più qualche penitenza in più perché la sua gloria celeste sia superiore per quello ci tornerebbe solo per quello perché di là queste cose non si possono fare più e quello che ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato il grado che hai raggiunto è quello che te tiene passiamo al al capitolo 25 ci introduciamo anche nel capitolo 25 che è anche qui tanta tanta roba allora tenere la mate di io continuavamo in piedi davanti alla finestra della casa dove vissero le signorine Campos famoso luogo del loro incontro dove hanno viaggiato secondo il nostro modo di pensare con la macchina del tempo quindi spostandosi indietro di diversi anni no semplicemente utilizzando un paratempo adesso non ripeto quello che ci siamo detti a suo tempo tutto restava immobile in silenzio soltanto ascoltavo o meglio percepivo non so come ciò che mi insegnava la mia amata maestra celeste riprendete l'amata a parlare vorrei spiegarti un po' il possesso delizioso dell'amore umano nella gloria occidentale possesso delizioso dell'amore umano nella gloria accidentale se non lo capisci malgrado i miei sforzi fa un atto di fede e non pretendere di scrutare quello che è molto al di sopra della tua intelligenza attuale per questo vorrei che mi permettessi di salutare la mia mamma è la signora che indossa una cappa di fustagno grigia occupa la quarta sedia prima del pianoforte di fronte a noi guardai dalla finestra era una signora giovane cioè giovane per me perché è vecchio una donna quarantenne ci sembra una ragazza la si vedeva di portamento distinto ma non rassomigliava a te era amata a un tratto quella signora che sembrava una statua di cera riacquistò i movimenti si accomodò prima poi si alzò in piedi si diresse verso la finestra sorridendo alla mia bella compagna per un attimo pensai che la signora stava per urtare il tavolino del centro ma nemmeno lo vide passo attraverso senza alterarlo chi conosce un pochino il Vangelo questa operazione la conosciamo già l'abbiamo già sentita Gesù Cristo che entra a porte chiuse nel cenacolo c'è qualche problema a rappresentarsi i balli che si possono fare sulle acque del mare beh basta che si ricorda l'episodio di Gesù che cammina sulle acque e di Pietro che cammina sulle acque non sono leggende come dice qualche segete modernista e razionalista diciamo queste sono leggende questi sono simboli no no non sono leggende non sono simboli sono fatti reali accaduti quindi passa attraverso il tavolino senza alterarlo e tra l'altro potente nella volta spiegherà anche non ricordo bene perché passa attraverso il tavolino senza alterarlo che una volta che uno lo sa non si stupisce neanche più di tanto no presso la finestra erano sedute varie persone ma la signora non importò filtro fra di loro attraversandolo come suppongo farebbero i fantasmi trapassò anche l'inferiata senza muoverla tenendo la madre e sua madre si salutarono dandosi la mano restarono così penso l'equivalente a un minuto di quelli che conosco io poi si separarono la signora ritraversò l'inferiata le persone che come stato rimanevano sedute nella sala si sedette al suo posto si accomodò e tornò alla stessa posizione statuare che aveva prima ok e adesso vediamo cosa è successo dopo mi spiegò tenera amata che quando i glorificati utilizzano un paratempo sentite che roba devono ritornare alla loro posizione iniziale con totale esattezza attenzione per non perturbare gli eventi storici conservati nei loro rispettivi spazi tempi della quinta dimensione aggiunse che c'è molto semplice già che l'anima beatificata possiede una memoria prodigiosa ma se qualcosa dimenticassi attenti che roba Dio la supplierebbe immediatamente in vista della piccolezza amata avete capito quello che sta dicendo qui allora perché fosse fatta questa cosa che cosa è successo che la madre di tenera amata che sembrava una statua perché perché loro stanno in un paratempo piccolissimo che scorre adesso a milionesimi di piccolo secondo d'accordo quindi cioè ti sembra immobile perché in un milionesimo di piccolo secondo tu stai fermo lì allora che cosa ha fatto la madre di tenera amata che evidentemente era morta sapeva che loro stavano vivendo in quel paratempo questa esperienza è uscita come dire dalla quinta dimensione o meglio dalla quarta dimensione entrando andando a prendere un paratempo per poter realizzare questo contatto con tenera amata che adesso vuoi spiegare cos'è dopodiché è ritornata lì e tenera amata spiega quando un glorificato utilizza un paratempo per fare qualcosa in relazione però a una certa circostanza di vita in cui si trovava deve tornare esattamente nella posizione in cui stava perché perché altrimenti gli eventi storici sarebbero alterati vi ricordate quell'episodio quando Riccardo ha chiesto a se stesso quindi possedendo ripossedendo miracolosamente perché ancora non era di depunto per un dono di Dio il suo corpo nella quinta dimensione gli chiede tu chi sei e gli effetti che questa cosa ha prodotto i disturbi che questo piccolo evento diciamo così fuori delle righe ha provocato nella realtà storica rispetto a quello che stavano vivendo di 50 anni prima e dice ma io mi sono dimenticato in che posizione stava esattamente che stava facendo ci pensa Dio anche a questo pensa l'Altissimo dice è fatta attenzione a quello che è successo mi chiese tenere la mano da molto contenta sì certo tua madre attraversò gli ostacoli come un fascio di raggi X dice no ma non mi riferisco a questo ma come ci siamo dati la mano nel salutarci mi dispiace ma non ci ho abbatato e sentite adesso che dice non ci siamo salutati con la mano come fanno i pellegrini mortali le nostre mani si compenetrarono e si fusero in una sola senza però venire meno nella loro individualità si unificarono intimamente in mezzo a un godimento magnifico pelle con pelle sangue con sangue muscolo con muscolo questa è la compenetrazione dei beati si interpenetrarono però ovviamente senza rompersi senza farsi del male senza confondersi attenzione si carezzarono con fruizione cellule con cellule protoplasma con protoplasma attraverso le nostre mani la mia mamma ed io abbiamo realizzato una compenetrazione di amore celeste ci comunichiamo gloriosamente e ci godiamo moltissimo noi che facciamo in questo mondo ci stringiamo la mano no? una bella stretta di mano è una cosa bella e qui mi viene la tentazione di la secondo di ripensare alle proibizioni delle strette di mano va 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 beh per poter immaginare un poco cos'è il saluto nella gloria futura ti conviene ricordare due qualità del corpo beatificato ecco qua tanta attenzione rimandiamo ai riparerò di questa cosa durante le catechesi sui novissimi quando arriveremo alla risurrezione della carne la sottigliezza o piena sottomissione del corpo umano allo spirito e l'impassibilità o assenza di dolore sono due proprietà non le uniche dei corpi codificati sempre secondo San Tommaso d'Aquino la sottigliezza o piena sottomissione del corpo umano allo spirito che è quella per mezzo della quale è possibile realizzare il passaggio attraverso i muri senza dolore allora inoltre la materia è eccessivamente porosa è fatta quasi di spazi vuoti entrerebbe in un ditale queste proprietà permettono che nel saluto celeste le mani si interpenetrino e si fondano come se si trattasse di una sola mano ma senza farsi male né disordinarsi perché ogni essere nell'essenza è indipendente dagli altri affascinante dice Riccardo dunque è questa la compenetrazione celeste che la mia bella morta mi viene annunciata incominciai a comprendere quello del bacio compenetrativo che è più bello di un bacio normale molto più bello ma mi è sembrato che voi non avete parlato però sebbene ma non so che sto dicendo come tu dici ne parla tempirenti la voce non si trasmette non c'è bisogno di parole tu dici che basta la direttevole intercomunicazione del bacio tra due anime e sentite adesso che cosa dice e ricordatevi quello che vi ho detto prima a proposito della grazia che presuppone la natura e della gloria che presuppone la grazia e che c'è un processo di progressiva perfezione in cui ciò che precede non è distrutto ma è elevato le dice le dice te ne l'amata osserva che sulla terra il saluto di mano il solo tocco e la stretta di mano è una manifestazione terrena dell'istinto della loro futura perché è una nostalgia del piacevole saluto cereste che la nostra anima presumibilmente in base a quello che dice adesso te ne l'amata lo conosce cioè sa che esiste e attende di viverlo qui non si può ma questa stretta di mano penso un po' è una manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura e quindi togliere la stretta di mano che significa? eh? non significa far vivere una sorta di esperienza di anticipazione di quello che è l'inferno dove non c'è l'amore neanche in quella forma bella e semplice ma assai significativa di una stretta di mano e attenzione ecco adesso te ne l'amata risponde a quello che io stavo supponendo ma se questo saluto del cielo non si conosce nel mondo puntini puntini cioè come fa la stretta di mano ad essere una manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura e dice risponde te ne l'amato la coscienza lo ignora ma l'anima spirituale che non è la stessa cosa della nostra coscienza eh nessuno di noi segua le cretinate che sono state dette da cartesio in poi e che vabbè chi non c'ha una cultura non sa manco di che cosa si parla ma il problema è che sapete che anche le persone letterate e non colte però oggi stanno vivendo quello che hanno teorizzato cartesio Ficht prima di Ficht Kant e Hegel tutti lo stanno vivendo adesso anche se non sanno neanche di che cosa lontanamente si tratti perché la filosofia questo per chi va a fare i disprezzi facili no? ci sono i cretinetti che per direggiare la filosofia dicevano la filosofia è quella scienza con la quale senza una quale tutto quanto resta uguale è insomma 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 così come tutte quante le cose che vediamo adesso in giro nella chiesa tutti quanti i modernismi di ogni genere basta aver studiato un pochino di teologie sono tutti quanti esiti cioè una liturgia scellerata guardate che l'esito ultimo di elucubrazioni mentali ad altissimi livelli quando uno ha la capacità intellettiva e anche come dire la dotazione culturale per poter comprendere quindi decodificare tutti quanti i passaggi quindi a partire dalla rilevatezza del pensiero fino alla manifestazione grossolana meglio ma tanto se non ce l'è la stessa cosa lo vivi senza saperlo quindi la coscienza lo ignora pensate ma perché secondo voi si può fare un aborto perché alcuni esseri umani chiamiamoli così possono dire che un feto è un grumo di cellule perché 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 un feto non ha coscienza voi capite che cosa significa oggi tu ergo sum penso quindi sono quindi ma per pensare devo essere cosciente se quello non c'è la coscienza e quindi non pensa non è e quindi lo posso ammazzare ho fatto una piccola applicazione pratica ma guardate che è così e il discorso sull'eutanasia dove hanno fatto l'eutanasia e se la faranno anche qui si fonda sulla stessa identica sullo stesso identico errore filosofico un malato terminale vive come un automa non è cosciente se in qualche raro momento c'è qualche sprazzo di coscienza ce l'ha soltanto per soffrire in maniera indegna quindi si ringa e lo mandiamo all'altro mondo tanto che ci sta a fare poi se ti vai a leggere il libro di gloria polo però lo faremo l'anno prossimo in un ciclo di catechesi che nella mia intenzione è il successore di tenera amata vai a vedere cosa ti racconta quella che stava in coma irreversibile e che evidentemente stava inconsciente che però vedeva e sentiva tutto quello che dicevano specialmente quelli che volevano staccare la spina che significa significa che l'anima di quella persona stava vivendo anche se la coscienza era ridotta a zero la coscienza lo ignora riprendo la lettura ma l'anima spirituale essendo radicata nell'eternità creata ed essendo la forma sostanziale unificatrice di tutto l'essere umano sia nello stato di viatore che nello di comprensore la intravede da lontano e la sospira cioè la mia anima non c'è mai stata nello stato di comprensore perché io sono viatore ma è spirituale e quindi siccome unificherà tutto il mio organismo integrale tutto sia in questa vita che nell'altra la intravede da lontano e la desidera la sospira e quindi in qualche modo cerca di anticiparla la stretta di mano la stretta di mano si può quasi sempre fa ecco ma se questo saluto del cielo continua no scusate in alcune epoche e regioni dice Riccardo le genti non hanno avuto la consuetudine di salutarsi con la mano risponderei tuttavia il saluto terreno ha sempre preferito un leggero tocco una leggera carezza che vale come un'anticipazione del meraviglioso saluto dell'aldilà è bello il saluto di stretta di mano dice Riccardo ma nel praticarlo con i miei simili non ho coscienza del futuro saluto celeste risposta si tratta di un istinto per il cielo gli istinti non sorgono nella coscienza tensione per volontà dell'uomo il nostro dio li ha messi in ognuno di noi per spingersi a realizzare ciò che lui ha predisposto attenzione in conformità col nome nuovo e la dote di manna segreta e abbiamo già visti cosa sono che ciascuno godrà nella patria non sempre gli istinti si soddisfano durante la vita mortale alcuni come questo sono inspiegabili nel mondo e perché sono inspiegabili obiettare Riccardo perché non sono da praticarsi sulla terra ma dopo nel cielo però ricominciamo a percepire dalla terra non ci sono punti di riferimento per comprendere né goderli se tu facessi una compenetrazione della mano adesso come saluto con la mia mamma non moriresti di dolore noi adesso non la possiamo fare questa cosa qui perché vi immaginate sentiremo un dolore terribile la tua pelle non ammetterebbe la penetrazione di un corpo estraneo soltanto nello stato di gloria è possibile godere di questo e di molti altri istinti che appena si intravedono in questo mondo di nuovo sentì il fastidio per la mia triste situazione diviatore limitato ed impotente e dissi alcuni animali domestici ci salutano con carezze a modo loro e qui ecco che si parla dei miei amici come il gatto che ti fa le fusa possiedono anche loro l'istinto della loro futura certo che sì rispose con uno sguardo compassionevole la sola differenza è che loro non sono capaci di aspirare alla gloria proprio degli umani perché perché non hanno l'anima spirituale attenzione però la loro gloria la ricevono dalle persone beate come ti ho spiegato i miei gattini riceveranno che qual è la vita di un animale facciamo un ripasso l'animale vive quei i gatti tra i 15 e i 20 anni massimo questi 15 e i 20 anni termineranno nel tempo con la loro morte corporale ma questa sarà la loro vita perpetua i 15 e i 20 anni e dentro questi 15 e i 20 anni ci sto io con loro e attenzione quando io sarò morto cadavere e ritornerò qui adesso vicino a loro adesso fanno un sacco di fuse quando gli faccio le carezze sono tutti quanti contenti ma quando gli rifarò quelle stesse carezze in un mio nuovo stato per loro sarà bingo strike perché il godimento che gli daranno sarà enormemente superiore a quello che dicevano adesso tuttavia la loro anima immateriale ma non spirituale consente loro di conoscere oscuramente sentite che dice che le carezze superficiali quelle che gli diamo adesso sono preludio di piacere i migliori che riceveranno dall'uomo qualificato vi rendete conto che l'anima è materiale avete visto quando gli animali fanno certe cose ma come fa che sta a percepire questa cosa ce l'ha un'anima come la nostra non c'ha la ragione non c'ha l'intelligenza ma è un'anima non capace di Dio ma è un'anima e quindi si dispongono con la generosità autentica della loro natura inferiore ma beati loro impeccabile non possono fare peccati loro beati a loro a offrire ai loro glorificatori la partecipazione ai doni specifici soprattutto ai doni singolari che hanno ricevuto credibilmente dal creatore cioè i miei gattini e poi mettiamo punto come dice Luisa non soltanto riceveranno un giorno da me dei godimenti che adesso se li possono soltanto che sognare ma li intrapidono ma io stesso riceverò da loro cose che qui non posso ricevere cioè qui ti possono far commuovere che ti vengono vicino che ne so che ti si mettono addosso che tu stai a dormire e ti vengono a dormire vicino che ti leccano le mani che ti fanno capire che ti vogliono bene ma questo è niente in confronto a quello che poi saranno in condizioni di sapersi e di poterci trasmettere bene amici alla prossima di voi benedica e la Madonna sempre vi protegga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti